Ti chiedi perché non puoi guardare dentro la mia testa? A volte è difficile, ma prima o poi tutti gli uomini rivelano se stessi. Oh, ne sono certo. Ma ti occorreva qualcosa in più di un uomo. Per questo hai permesso a Stark di prendere lo scettro. Non lo immaginavo. Poi ho visto le paure di Stark. Sapevo che l'avrebbe controllato e portato all'autodistruzione. Tutti creano le cose che temono. Gli uomini di pace creano le macchine di guerra. Gli invasori creano gli Avengers. Le persone creano... piccole persone... Bambini! Mi sfuggiva la parola. Bambini creati per eliminarli. Per favorire... la fine. È per questo che sei venuto? Per eliminare gli Avengers? Sono venuto per salvare il mondo. Ma anche. Sì. Farà piacere a chi ama i film basati sui videogames, il video di oggi. Perché ho una curiosità su Hitman Agent 47. Lo sapevate che Paul Walker era la prima scelta per interpretare il protagonista? La sua tragica scomparsa nel novembre 2013 l'ha reso impossibile naturalmente. E quindi la gente è interpretato dall'attore inglese che conoscerete per le serie TV Homeland, Rupert Friend. Il povero Rupert però si è fatto pure male sul set. La cartuccia di un proiettile è rimbalzata dal pavimento alla sua testa e l'ha colpito, ustionandolo solamente un pochino. Per fortuna perché a me piace Rupert. E a voi? Che ne pensate? Commentate qui sotto e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti. Ciao a tutti.